Ben ritrovati ancora qui da Rimini, il nostro ospite è Massimo Scolari, segretario generale di Ascosin. Ecco a lui chiediamo un po', nonostante sia qui un evento di trading, quanto è importante il consulente finanziario invece e nelle scelte dell'investimento del cliente e nella promozione finanziaria, come si inquadra il professionista? Penso che non c'è una contrapposizione con il trading perché l'attività di investimento da parte dei risparmiatori utilizza sia tecniche di trading ma ha sempre bisogno, come in tutte le attività, di un supporto per quelle attività per le quali non ci si sente abbastanza esperti, quindi credo che un rapporto con un consulente finanziario o con una società di consulenza sia sempre importante anche per il cliente che privilegia l'investimento fai da te. Abbiamo parlato anche dell'albo unico tra consulenti e promotori finanziari, secondo lei è positivo? Cosa cambierà sia per il cliente sia per il professionista? Sicuramente un passo avanti perché per tanti anni l'albo dei consulenti è rimasto sulla carta e non è stato avviato e questo è stato un grave danno sia per i professionisti ma ancora di più per il pubblico perché non aveva nessuna fonte per verificare se il consulente che si presentava a offrire un servizio era un consulente iscritto all'albo che quindi aveva certificato e con dei requisiti verificati oppure in qualsiasi cialtrone, quindi evidentemente l'albo serve a proteggere prima di tutto i risparmiatori. Certamente il fatto di avere un rapporto di collaborazione con l'attuale struttura dell'albo dei promotori finanziari che porterà alla nascita di un nuovo organismo di gestione degli albi che mette insieme tutta la categoria è un fatto positivo perché altrimenti ci sarebbe un eccessivo spezzettamento, un eccessivo spezzettamento dell'attività, dei controlli e quindi anche un'inefficacia dal punto di vista dei risparmiatori. Penso che i promotori e i consulenti si troveranno a collaborare all'interno di questa istituzione comune naturalmente nel rispetto delle specifiche differenze che sono importanti e che devono essere riconosciute e fatte conoscere al pubblico. Insomma possono coesistere insieme le due figure senza problemi? Già coesistono. Attualmente c'è competizione, come è giusto che sia, ma c'è anche competizione tra i promotori finanziari, tra le banche e quindi è giusto che ci sia anche competizione tra i consulenti. Questo non significa che vi è un'esigenza comune di avere un albo nel nel quale siano iscritti persone che hanno i requisiti di professionalità, di competenze e di onorabilità e che questi soggetti siano controllati, vigilati sia dall'albo sia dalle autorità di vigilanza. Quindi è chiaro che è nell'interesse di tutti collaborare. Certamente, il settore dovrà anche coesistere con i nuovi player sul mercato americano che sono i cosiddetti robo-advisor, cioè consulenti che hanno per loro natura una parte tecnologica molto presente, quasi come se il consulente non servisse. Dovranno temere questa avanzata tecnologica? No, no, no. Anzi, io sono favorevolissimo allo sviluppo della tecnologia. Bisogna adattare il proprio mestiere allo sviluppo della tecnologia. Per cui magari il consulente verrà sostituito da un robot, come dice, però ci sarà qualcuno che dovrà istruire il robot a come farlo, a come fare. Quindi si sposterà sempre più l'attività alla creazione di procedure informatiche, di metodologie, di elementi che servono poi a guidare, chiamiamoli robot, chiamiamoli servizi informatizzati che possono essere utili per dare un contenuto a una clientela molto vasta e che la singola persona fisica non riuscirebbe a fare. Quindi credo che sia uno sviluppo molto importante. Questo naturalmente non significa che se al posto del consulente ci sarà un robot, anche questo robot dovrà sottostare alle regole della Mifid e tutto quanto, perché anche questo è soggetto alle stesse regole. Cioè voglio dire che le regole che riguardano la prestazione dei servizi di investimento valgono sia per chi presta a distanza, sia per chi presta direttamente. Quindi è chiaro che ci deve essere un'uniformità di applicazione di regole per tutti. Queste nuove società potrebbero anche essere troppo competitive, vi spiego, il loro forte è, sono i costi minori. Certo, speriamo che la consulenza riesca ad arrivare ai clienti a bassi costi attraverso l'utilizzo delle tecnologie. Sarebbe sicuramente uno sviluppo importante, proprio perché una delle accuse che si fa alla consulenza è quella di essere un servizio solo per i ricchi, perché solo i ricchi si possono permettere di pagare una parcella di consulenza. Io invece dico che la consulenza di finanziaria serve soprattutto a chi ha meno patrimonio, ma a chi se lo vuole costruire. Quindi è chiaro che delle forme standardizzate, informatizzate della consulenza, che quindi abbiano un prezzo più basso, possono essere utilissime. Perfetto, quindi nessun problema, non correte rischi promotori finanziari. No, no, anzi è un mondo che diventa sempre più complesso, è anche più divertente, intrigante e anche chi svolge l'attività di consulenza finanziaria partecipa a tutti gli effetti a questa attività che si svolge in un clima sempre più competitivo e globalizzato. Benissimo, grazie a Massimo Scolari, segretario generale di Asco, Sim, Fida Rimini.